Con soddisfazione possiamo dire che questa Nati Volley va avanti, ha vinto per la quinta partita, sesta partita consecutiva, rifacciamo. Presidente, con grande soddisfazione la Nati Volley vince ancora, sesta vittoria consecutiva, primato in classifica, vinto anche la seconda, ma domenica potrebbero cambiare molte cose. Sì, abbiamo giocato la sesta partita che era una partita complessa perché abbiamo giocato con la quarta squadra in classifica, la Nigitor, che era una squadra abbastanza difficile, abbiamo vinto benissimo il primo set, il secondo invece loro si sono riprese e ci hanno battuto, poi terzo e quarto è stato al nostro vantaggio e abbiamo concluso a punteggio pieno. La Nigitor è una squadra tosta, insomma l'ho dimostrato anche questo secondo set, però l'importanza di coalizzare le ragazze e quindi farle mettere nella mentalità di vincere, così come è successo anche nelle precedenti giornate, è stato importante e i coach hanno saputo trovare quello spirito giusto. Sì, senz'altro. La squadra era formata da ragazzine, quindi molto giovane, quindi ragazze molto veloci, però ovviamente l'esperienza delle nostre era sicuramente superiore. I coach ovviamente hanno fatto nel secondo set anche delle prove di formazione perché ci stiamo preparando poi agli incontri ancora più complessi e pertanto ci stava anche di perdere un set, però devo dire che l'esperienza poi del nostro capitano e di tutte le altre ragazze che abbiamo si è fatta vedere in campo. Ecco, quindi è importante adesso proiettarsi nella prossima giornata, si giocherà di nuovo a Canicattì, ma si incontra comunque una squadra difficile. Sì, la prossima giornata sarà molto delicata perché giocano le quattro prime squadre in classifica una contro l'altra, quindi noi giochiamo contro la US Volley di Palermo che ha 11 punti e poi c'è il Sandagata che gioca invece una partita importantissima contro il Mauro Sport, il Sandagata è la nostra inseguitrice in questo momento, pertanto potrebbe succedere che si potrebbe allungare la classifica o noi potremmo avere qualche problema, quindi è bene essere molto concentrati perché da questa giornata dipenderà molto credo il campionato. Quindi è importante la presenza del pubblico in quell'occasione, si gioca a Canicattì, quindi vogliamo anche rinnovare l'invito al pubblico a essere presente e a sostenere le ragazze della Nativoli. Sì, è una bella giornata, domenica ci sarà tempo bello, quindi mi raccomando venite tutti al palazzetto, o meglio alla palestra comunale di Canicattì a sostenere le nostre ragazze, abbiamo bisogno ora della presenza del pubblico, stiamo andando molto bene e molto avanti e siamo preoccupati, sapete quando si è molto avanti nella classifica si è preoccupati, vogliamo avere l'appoggio del pubblico che ci servirà sicuramente ad incoraggiarci e andare ancora più forte verso l'obiettivo.